I problemi finanziari della tua azienda non ti lasciano dormire sereno? Richiedi una consulenza gratuita con un esperto nella gestione finanziaria delle PMI per individuare la soluzione più adatta alla tua attività e per scoprire i rischi dai quali devi tutelarti. Fallo adesso e intervieni prima che la situazione ti sfuga di mano. Se prenoti ora, riceverai anche il dossier Stratexit, un'analisi professionale della tua azienda preparata dal mio ufficio studi che ti permetterà di avere le idee più chiare su come gestire la liquidità aziendale, su come affrontare le difficoltà finanziarie e sulle soluzioni da adottare per risolvere i problemi che ti tengono impegnato tutto il giorno. Mi chiamo Giuseppe Di Domenico, sono un imprenditore e ho fondato un network professionale specializzato nella gestione finanziaria delle PMI e nella ristrutturazione dei debiti aziendali. Seguiamo protocolli scientifici per permettere ai nostri clienti di aumentare i profitti delle loro aziende, di migliorare l'equilibrio finanziario e di rendere più sostenibile l'indebitamento grazie alla tecnica dell'autofinanziamento e alla negoziazione professionale. Fissa subito un appuntamento per la consulenza gratuita. Prima che gli slot messi a disposizione dai nostri professionisti, vada con i sauridi e scopri come possiamo aiutarti. Clicca sul pulsante, inserisci i dati richiesti nel modulo e prenota l'appuntamento con un business tutor nel giorno e all'ora che desideri.